Bella raga, eccoci con un nuovo video, dunque è finita Salernitana Virtus Centella, partita finita 2-1 per la Salernitana, partita una gara in rimonta, una Salernitana che nel primo tempo ha fatto un po' di fatica, una partita sofferta e più del dovuto. Salernitana, abbiamo la Virtus Centella ultima, ancora senza vittorie, una Salernitana che ha avuto le sue occasioni al primo tempo, ma nulla di che è molto meglio nella ripresa con i cambi di Astori, infatti questa secondo me è la vittoria di Castori, la vittoria sua perché ha indovinato praticamente i cambi, lui ha scelto Gondò dal primo minuto al fianco di Tutino, un Gondò impalpabile questa volta, sarà la meredizione della 7 di Cerci, qualcuno diceva, non lo so. Comunque un primo tempo dove la Salernitana ha rischiato praticamente poco, è andata anche vicino al gol con Tutino, sul cross di Walter Lopez, Walter Lopez molto meglio in fase offensiva che difensiva, il gol purtroppo arriva in chiusura di primo tempo quasi al 38esimo con un errore di Schiavone che sullo stop scivola e appunto permette alla Virtus Centella di andare in contropiede e assegnare con Mancoso. Lì c'era Walter Lopez sopra, per ora un errore in fase di uscita di Schiavone che aveva scivolato dunque un po' fuori posizione a difesa Granata, Mancoso si è trovato a tu per tu con Belec, praticamente insaccato con un cucchiaio sotto con Belec in uscita disperata, però lì il portiere non poteva farci assolutamente nulla. A riposo all'intervallo Castori fa due cambi decisivi, Diuric soprattutto Cicerelli con Cicerelli che dopo un minuto che era entrato praticamente prende palla sulla sinistra, ne supera due velocità il cross, cross leggermente deviato al difensore della Virtus Centella e Tutino che di testa in sacca indisturbato, lì anche un errore della difesa dell'Entella fortunatamente perché Tutino praticamente non stacca neanche, di testa si avvita solo, la insacca in mezzo a quattro difensori del Virtus Centella, pallone forse la deviazione potrebbe essere stata decisiva, non lo so, però bene così, un Tutino che è molto, si conferma ancora uomo decisivo per questa Salernitana, perché lui a procurarsi poi il rigore della vittoria, un fallo netto con giallo conseguente, lì il difensore Tutino fa la finta di corpo per liberarsi del difensore e il difensore si aggrappa lo stand, va bene. Il rigore trasformato con freddezza da Diuric, che spiazza il portiere, spiazza Russo, il portiere della Virtus Centella. Partita che poi la Salernitana ha controllato, sofferta più del dovuto perché con l'ultimo in classifica magari aspettavamo qualcosina in più, però veniamo comunque da una serie di partite giocate e ravvicinate, infatti ora è un giocato sabato, c'è venerdì, oggi che è lunedì, poi giocheremo domenica, poi ci sarà il Monza il 30, quindi la stanchezza magari inizia a farsi sentire. Appunto domenica subito col Venezia, partita importantissima e poi col Monza a chiudere quest'anno il 30. Sono due gare dove fare sei punti sarebbe bellissimo, però anche quattro non dispiacerebbero perché comunque sono due squadre belle toste. Il Monza sappiamo che ha una rosa da andare perlomeno ai play-off, ma è una rosa che fa paura. Ora con Balotelli e Boateng avanti, che fino a qualche anno fa stavano al Milan, ho detto tutto credo. e il Venezia che invece ha dimostrato di essere una grande squadra, una squadra tosta da affrontare, può essere una dell'outsider come lo potrebbe essere il Cittadella. Dunque vedremo domenica come andrà, vedremo soprattutto il 30 con il Monza, che è una partita molto 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 dura. Per ora ci godiamo queste 24 ore in testa di nuovo alla classifica, abbiamo risuperato l'Empoli, l'Empoli che domani sera è impegnato con la Reggiana e vedremo un po' cosa succederà. Io vi auguro una buona serata e forza salernitana!